Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati su questi schermi e benvenuti in una nuova mini saga Oggi parliamo di un caso che mi viene richiesto regolarmente da molto tempo E quindi siccome ragazzi errare umano ma perseverare è diabolico E voi, voi avete perseverato nel tempo non arrendendovi al mio silenzio E continuando a scrivermi Iris fai Mark Caltagirone Adesso vi accollate lo scandalo di Mark Caltagirone in tutta la sua bruttezza Allora lo scandalo comincia con Pamela Prati che un giorno dice in tv di avere un fidanzato con il quale si sta per sposare Fidanzato tuttavia invisibile nel senso che nessuno riesce a trovare foto sue Il che è strano perché questo tizio vanta di essere un personaggio importante E in effetti si fa pure sentire capito c'è in tv la sua voce qualche volta la sentiamo Solo che non si fa mai vedere e quindi la sua esistenza a un certo punto viene messa in dubbio per questo motivo E si mettono a indagare tutti quanti giornalisti, conduttori televisivi, gli utenti dell'internet A momenti si scomodano pure i cani poliziotto per cercare il fidanzato di Pamela Prati Fino a quando non si scopre che purtroppo dietro sto fidanzato invisibile di Pamela Prati si nasconde in realtà una trappola C'è una vera e propria truffa ragazzi Nella quale Pamela Prati non è manco l'unica persona coinvolta perché la trama è molto complessa in questa cosa E ancora oggi pensate che a distanza di anni non si è capito chi in questa faccenda, in tutto sto casino sia la vittima e chi sia il carnefice Io mi sono fatta la mia teoria, ve lo confesso, cioè io ho la mia idea su chi sia complice e chi sia vittima Però ve la dirò la mia idea solo alla fine della saga Sappiate comunque che ci sono indagini in corso quindi ovviamente la vera verità si suppone che presto o tardi verrà fuori Che dire ragazzi onestamente ho sempre evitato fino ad ora di trattare questo caso perché lo associavo al trash Ma proprio il trash quello brutto, quello peggiore di tutti Ad oggi ho capito che mi sbagliavo perché l'unica cosa trash in tutta questa faccenda è Pamela Prati Cioè Pamela Prati è innegabilmente trash Lei è una portatrice di trash, trashifica ogni cosa che tocca E la sua aura trash evidentemente è così potente da avermi confusa Cioè da avere confuso un attimino l'opinione pubblica in generale Avere fatto pensare alle masse tra cui appunto me ragazzi Che il caso di Mark Caltagirone fosse nient'altro che un gossip particolarmente articolato In realtà qua si parla appunto di un sistema complesso di truffe romantiche, di love scam In cui il colpevole di queste cose agisce mediante manipolazioni, furti di identità, ricatti, sfruttamento di bambini Ottenendo pure con l'inganno materiale portafico da parte delle vittime E facendo soldi attraverso un piano malefico così strutturato che Manco la casa di carta Ma quale casa di carta? Questa è la casa di calta ragazzi Girone Ebbene ragazzi a questo punto l'operazione riassuntone del mistero di Mark Caltagirone Ha ufficialmente inizione Oggi è il giorno delle battute pessime Questa ragazzi sarà una mini saga Perché Perché intanto Diciamo è enorme questo caso Cioè va avanti da anni Quindi vi potete immaginare quanto sia Quanto materiale ci sia Oltre questo Ha proprio dei risvolti amaramente divertenti Che sarebbe troppo peccato sacrificare Quindi Insomma Ne varrà la pena allungare un attimino il brodo Sarà una mini saga però anche per un altro motivo ragazzi Ovvero che non so se si intuisce dalla mia voce Però non sto bene Cioè ho la febbre Penso che la mia voce se ne andrà da un momento all'altro Quindi Non perdiamoci ancora in chiacchiere Tanto per cominciare ragazzi Mettetevi comodi Fatevi una bella tisana rilassante Perché ne avrete bisogno E anche oggi ogni qual volta vi arrabbierete così tanto Da volere scrivere una parolaccia nei commenti Trattenetela E invece commentate con l'emoji Di un grazioso fantasmino Di un grazioso unicorno O di qualsiasi altra creatura Che così come Mark Caltagirone Non esiste Spoilerone Detto ciò ragazzi Non mi resta che dirvi Benvenuti nel primo capitolo Della Mark Caltagirone saga Ciao ragazzi Sono l'Aeris del futuro In questa saga Parleremo anche di furti di identità E quindi posso io esimermi dall'intervenire? No, non posso Perché lo sapete qual è Un modo molto efficace Per rubarvi l'identità Infilarsi nel vostro computer E scoprire i vostri dati personali E sapete chi è che vuole rubare i vostri dati personali? Gli hacker cattivi Che sono più invisibili di Mark Caltagirone Addirittura È così che un malintenzionato Può scoprire le vostre password E relazionarsi ad altre persone Fingendosi voi Oppure insomma Accedere alle vostre informazioni personali E creare un profilo a nome vostro Ma un modo per impedire tutto questo Ragazzi A differenza di Mark Caltagirone Esiste Anzi ne esistono due Il primo è Bruciare il computer Il telefono Il tablet Per sicure c'è anche il citofono Il secondo è Installare NordVPN Con NordVPN L'unica cosa invisibile Che avrete dentro il vostro computer Sarà il vostro indirizzo IP Perché il vostro indirizzo IP Nessuno potrà mai E poi mai scoprirlo Grazie a NordVPN Che ve lo rende Per l'appunto Invisibile Quindi potrete anche Entrare tranquillamente Nel vostro sito preferito E nessuno lo saprà mai A parte Gesù Che vi guarda E vi giudica Quindi organizzatevi voi Ma NordVPN Non è solo la guardia Del corpo bacchettona Dei vostri computer No ragazzi NordVPN Vi mette a disposizione Anche questa comoda mappa Una mappa magica Che è la mia cosa preferita Di NordVPN Io la uso tantissimo In pratica Vi basta cliccare In questo modo Su un paese Per teletrasportarvi Magicamente In tale paese Non fisicamente Ragazzi Bensì Virtualmente Che è meglio Secondo me Perché il vostro corpo Giace sul divano Di casa vostra Mentre invece La vostra anima digitale Volerà dove voi la volete Come usare Questa comoda mappa magica Io la uso Per fare ricerche Da altri paesi Un altro modo Per usare la mappa Di NordVPN È se vivete all'estero Cioè se vivete all'estero Che ve lo dico a fare NordVPN Natevi per forza Ragazzi per forza Perché con NordVPN Vi basterà Cliccare sull'Italia Per continuare a navigare Sull'internet italiano Evitando così Di fare ricerche Dal vostro paese E ritrovarvi In questa scomoda situazione Insomma L'unico limite Ragazzi È la vostra immaginazione E il tutto Costa poco Soprattutto perché Questo mese C'è il Black Friday E iscrivendovi attraverso Il link che trovate Nell'info box Avrete anche uno scontone Riservato alla nostra community E non solo lo scontone Ragazzi Ci avrete anche 4 mesi gratis Nel caso in cui Scegliate di abbonarvi A NordVPN Per due anni Cioè se prendete Il pacchetto Da 24 mesi Ne pagate Ne pagate solamente 20 Una volta iscritti Avrete 30 giorni Di tempo Per ripensarci E farvi rimborsare Il 100% Della spesa Quindi insomma NordVPN Tutto comincia Nel novembre 2018 Ormai 4 anni fa Quando Pamela Prati Rilascia un'intervista Alla rivista Di Gossip Key Il titolo Di questa intervista Del peccato È A 60 anni Ho trovato il vero amore Ebbene ragazzi No Non ha trovato Un cantiere Ma Ha trovato uno Che i cantieri Li costruisce Quindi pensate Che fortuna Si chiama Marco Caltagirone Ed è un imprenditore Edile Per l'appunto Di fronte a questa notiziona Di interesse nazionale Cioè Pamela Prati Che trova il vero amore A 60 anni C'è una persona Che non riesce Proprio a fare L'unica cosa Che andrebbe fatta In questi casi Cioè I fatti propri E questa persona Ragazzi È Barbara D'Urso Infatti Barbara D'Urso Invita Pamela Prati Nella propria trasmissione Domenica Live Per parlare insieme Di questa nuova Love story Con tale Marco Caltagirone Ora ragazzi Prima di entrare nel merito Fermiamoci un attimo E poniamoci una domanda Chi è Pamela Prati Cioè da dove proviene Che ha fatto Cioè perché Perché conosciamo il suo nome Di preciso Pamela Prati È Paola Pireddu Cioè lei nasce Che si chiama Paola Pireddu Però la sua tragedia Non è tanto questa Quanto il fatto Che quando Pamela Cioè Paola Ragazzi scusate Quando Paola Aveva solamente Un anno e mezzo Suo padre Abbandona la moglie E lasciandola da sola E senza soldi Oddio da sola Magari da sola Ragazzi la lascia Con la bellezza Di otto figli Tra cui appunto Paola Questo ha messo La moglie Incinta Otto volte E poi se l'è svignata Cioè ma come ti viene Non ti viene manco Un dubbio Non lo so Alla sesta volta La madre di Paola È costretta A organizzarsi In qualche modo E quindi cosa fa Siccome deve lavorare Molla Paola In un collegio Con le suore Paola a questo punto C'ha un anno e mezzo E si ritrova A un anno e mezzo In una struttura Piena di donne Vestite di nero Tutte incappucciate Che dicono Di amare un uomo invisibile Se ci pensate L'infanzia di Pamela Prati Ci dice tanto La piccola Paola Purtroppo in questo collegio Viene maltrattata Viene picchiata E dorme in una soffitta Dove ogni tanto Spunta anche qualche topolino Questa situazione Ragazzi la porta A sviluppare La claustrofobia Cioè la paura Degli spazi chiusi Che a sua volta Porterà Paola Pireddu La piccola Paola Pireddu Ad avere proprio Un rifiuto per gli aerei Cioè Pamela Prati C'ha la fobia Di prendere l'aereo Ma in tutto ciò La madre di Pamela Prati Indostà Che fa Mentre lei Se ne sta in collegio Per tutto sto tempo La mamma ragazzi Quando ha tempo Passa a trovare Pamela In collegio Le porta qualche regalino Le porta qualcosa Da mangiare E poi Sparisce di nuovo Paola fa questa vita Fino a che non compie Otto anni E quando compie Otto anni Finalmente Sua madre Essendo riuscita A racimolare Un po' di soldini Dopo tanti anni Di sacrifici Può permettersi Di riprendersi La figlia E riportarsela A casa Paola cresce E diventata adulta Inizia a lavorare Come commessa In un negozio di vestiti Quando un giorno Un fotografo Entra nel negozio di vestiti In cui lavora Ed entra insieme All'art director Della rivista Playboy Vede Paola E i due Subito Si guardano E si rendono conto Di quanto statuario Sia il fisicaccio Di questa donna Tanto che Vanno da Paola E le propongono Di posare Per la rivista Playboy Nuda Paola Pireddu Non accetta subito Perché non è sicura Di volere posare nuda Quindi prende un po' di tempo Dice che ci penserà E poi un giorno Trova una lettera Scritta da sua madre Nella quale C'è scritto Che Hanno bisogno Di soldi E così che Paola Si fa coraggio E va a fare il provino Per Playboy Oggi ragazzi Pamela Prati Racconta di essersi Spogliata con le lacrime Agli occhi davanti Allo staff Io spero Per la gioia Tra di fatto Che la prendono Ed è a questo punto Che Paola Pireddu Diviene Pamela Prati Cambia nome Perché insomma Forse secondo il direttore artistico Nessuno si sarebbe Smanettato su una Che si chiama Paola Pireddu Pamela Prati Diventa una Sex symbol Diventa una Modella Affermata E ben presto Inizia a lavorare Anche come Attrice Interpretando sempre Questi ruoli Un po' Piccantucci Fino a quando Negli anni 90 Pamela Prati Diviene la subrette Nel programma Nel programma di varietà Il bagaglino Da qui in poi Non se ne capisce Più niente Perché fa un sacco di cose Pamela Prati Fa la subretta All'assai l'ultima Partecipa All'isola dei famosi Insomma ragazzi Fa un sacco di cose E ad oggi La sua fama La precede Purtroppo Purtroppo però Anche la fame La precede Perché a quanto pare È piena di debiti Pamela Prati Secondo alcuni Comunque Questi debiti Sarebbero da imputare Al gioco d'azzardo Infatti Pamela Prati È stata avvistata Da diversi testimoni In un preciso Bingo di Roma In modo regolare È reiterato E di recente Persino lo staff Di questo preciso Bingo di Roma Ha confermato Che in effetti Pamela Prati Giocasse da loro Quasi ogni giorno Dalle 6 del pomeriggio Fino anche a notte Inoltrata Dipende poi Da quanto diceva Da quanto perdeva Quindi la teoria Ragazzi È che i debiti Di Pamela Prati Siano da imputare Alla dipendenza Da gioco Fermi tutti Cosa sappiamo Dei debiti di Pamela Allora sappiamo Che nel luglio Del 2018 Pamela Prati Si ritrovò A carico Un pignoramento Di 372 mila euro Come se non bastasse Solamente qualche giorno fa Mentre Pamela Si trovava tranquillamente Dentro la casa Del GF VIP Perché si ragazzi Per ora Pamela Prati È dentro La casa del GF VIP Se non lo sapete Perché non avete visto Il video sul caso Di Marco Bellavia Recuperatelo Sta di fatto Che mentre Pamela Si trovava Dentro la casa Del Grande Fratello VIP Le hanno pignorato La casa Non quella Del Grande Fratello Chiaramente Anche se Sarebbe stata Cosa buona e giusta Io mi sarei trovata D'accordo Con questa decisione Da parte dello Stato Ma Di un suo Appartamento Le hanno pignorato Lei vorrebbe Sposarsi Vorrebbe fare Dei figli Questo è proprio Il sogno Della sua vita E lo dice In tantissime interviste Attenzione Sicuramente Manca una famiglia Che comunque Quando tu È una famiglia Sei anche più forte Nel 1999 Pamela Prati Sta con un attore Di nome Max Bertolani Che è anche un giocatore Di football americano Lui A un certo punto Pamela Prati Annuncia ai giornali Ai giornali di gossip Che lei e Max Stiano per sposarsi Stiano per convogliare A nozze Quindi Finalmente ragazzi Sta per avverare Il suo sogno Max Questa cosa Che stia per sposarsi Con Pamela Prati La scopre in edicola Proprio dai giornali Di gossip Perché insomma Non ne sapeva niente Cioè sì Stava veramente Con Pamela Prati Lui però Cioè Non c'erano nozze All'orizzonte Tant'è vero Che Max Torna a casa E dice a Pamela Che cacchio hai fatto E lei gli risponde Ho detto ai giornali Che ci sposiamo Perché ogni volta La gente mi ferma per strada E mi chiede Ma tu e Max Quando vi sposate Max ragazzi Si arrabbia con Pamela E le dice Senti Pamela Su queste cose Non si scherza Quindi ora Siccome l'hai detto Allora io e te Ci sposiamo veramente A tal proposito Vi volevo annunciare Che io e Max Bertolani Stiamo per sposarci Comunque le cose vanno male Non ci arrivano Si due a sposarsi E alla fine si lasciano Prima che si possa fare Qualsiasi cosa Nel 2009 Pamela Prati Ragazzi ritrova l'amore E di nuovo Chiama i giornali Di gossip Comunicando Che si sposa Il Fortunello Questa volta È un uomo di nome Daniel Sebastian Habir Ed è un imprenditore Argentino Lui e Pamela Prati Ragazzi si sposeranno A Las Vegas Però si sposeranno In gran segreto Perché questo Daniel Sebastian Habir È un uomo Molto riservato Tanto è vero Che non c'è traccia Di lui Da nessuna parte Cioè Non esiste neanche Una foto Che ritragga Pamela Prati Insieme a lui E lei giustifica Questa cosa Dicendo ai giornali Ragazzi Aprite bene le orecchie Stiamo insieme Da tempo Ma a differenza Di altri uomini Lui non vuole apparire È un uomo Molto schivo E mi piace Anche per questo Non è certo Sensibile alle luci Della ribalta Non gli appartengono E non vuole far parte Del mondo Dello spettacolo L'amore tra Pamela Prati E Daniel Sebastian È forte ragazzi È potente È romantico È una favola Purtroppo però Dura poco Infatti Pamela E Daniel Sebastian Solamente due anni Dopo il matrimonio Lampo a Las Vegas Divorziano Ebbene ragazzi Moltissimi anni dopo E vi sto parlando Di tipo Otto anni dopo Pamela Dichiarerà Ai giornali Che in realtà Sto Daniel Sebastian Habir Non sia Mai Esistito E che semplicemente Qualcuno Non specifica Chi Pamela Prati Qualcuno L'avesse consigliata male Suggerendole Di dichiarare Ai giornali di gossip Di essersi sposata A Las Vegas Con un tizio Di nome Daniel Sebastian Habir Questo ragazzi Significa Che nel 2009 Pamela Prati Abbia montato Ad arte Un matrimonio Finto Con un uomo Inesistente Di nome Daniel Sebastian Habir Ricordatevi Questo nome Soprattutto Sebastian E andiamo E andiamo avanti Nel 2017 Pamela Prati Ha una relazione Con un uomo Di nome Luigi Oliva Che è Lui A quanto pare Esiste A quanto pare Non si è inventata Che si stessero Sposando Quando in realtà Non si stavano Sposando Però Pamela Praticamente dice Di essere stata Con Luigi Per sette anni Mentre Luigi Non è d'accordo Con questa affermazione Cioè lui sostiene Di essere stato Con Pamela Prati Tipo per sette mesi Otto Volendo arrotondare Per eccesso Ora Io ragazzi Non lo so Chi dei due Dica la verità Però Oresta A questo punto Io faccio un po' Fatica A credere A Pamela Prati Comunque Sta di fatto Che Pamela Racconta Che dopo essersi Lasciata Con Luigi Oliva Si sia presa Malissimo E allora Che cosa ha fatto Allora C'erano Praticamente Degli amici Suoi Degli amici Di Pamela Che la invitavano Sempre ad andare In un ristorante Un ristorante Di Roma Che si chiama Casa Nova Insomma ragazzi Un bel giorno Pamela Si convince Si decide Ad andarci Se non altro Per svagarsi Un pochettino Perché sente Di averne bisogno Non sta tanto Bene Triste Ora Ragazzi Questo ristorante È gestito Da due donne O comunque Cioè ci sono due donne Che organizzano Degli eventi In questo locale Ecco Durante la serata Pamela Prati Conosce queste due donne Scambia qualche Chiacchiera Con loro E poi Diciamo in seguito Nel corso Del 2017 A cavallo Tra il 2017 E il 2018 Pamela Prati Tornerà Diverse volte Al Casanova Stringendo Una forte amicizia Proprio Con queste due donne Qui ragazzi Vediamo La genesi Di questa amicizia Questa è una foto In cui Pamela Prati È al Casanova Insieme a una delle due In questa foto Questa tizia Scrive Stasera è venuta A trovarci Una nostra cara amica E tagga Pamela Prati Questo post risale All'aprile 2017 Niente meno Questa è un'altra foto Scattata la stessa sera Di Pamela Insieme all'altra tizia Che gestisce gli eventi In questo locale Ora a quanto pare Ragazzi Queste due A parte organizzare Gli eventi Al Casanova E gestire il Casanova Sono proprio due agenti Cioè loro hanno Un'agenzia Che rappresenta E promuove I personaggi Dello spettacolo La Icos Management Ed è proprio Per questo motivo Che il Casanova È questo grande ritrovo Per i VIP Perché loro comunque Si muovono in quest'ambiente Cioè Li conoscono I personaggi famosi Per esempio Qui vediamo Valeria Marini Al Casanova Con loro Vediamo Enrico Brignano Appunto perché Ste due ragazzi Lavorano con i personaggi famosi Li rappresentano Cioè non so se rappresentino Nello specifico Quelli che ci vanno Però comunque C'è Loro appunto Sguazzano in questo ambiente E quindi Organizzano anche Questi eventi di ritrovo Queste due Ma chi sono Queste due ragazzi Parliamone Ve le presento Lei è Donna Pamela Perricciolo Quindi ragazzi Attenzione In questa vicenda Abbiamo già una Seconda Pamela E questa seconda Pamela Avrà un ruolo Da protagonista Assoluta Indi per cui Per non confonderci La chiameremo Pamela 2 Lei è Pamela 2 Quest'altra invece È Eliana Michelazzo Eliana Michelazzo Qualcuno di voi Se la ricorderà Sicuramente Come corteggiatrice Uomini e donne Nel lontano 2009 Quando corteggiava Federico Mastro Stefano Con Federico Però ragazzi Le è andata male Infatti alla fine Lui ha scelto Un'altra Di nome Pamela Pamela Compagnucci Le Pamele Purtroppo Si riveleranno L'incubo Della vita Di Eliana Infatti Finito il programma Uomini e donne Eliana Si imbatte In Pamela Perricciolo La nostra Ribattezzata Pamela 2 E insieme a lei Fonderà La Icos Management Diventando un'agente Molto nota Nel mondo Dello spettacolo Tanto è vero Che la vedremo Spessissimo Come ospite In televisione Nei salotti televisivi Ora Nello stesso anno In cui Eliana Conosce Pamela 2 E fonda la Icos Annuncia anche Di avere una relazione Con un uomo Di nome Simone Coppi Con il quale Sta per convogliare A nozze Questo Simone Coppi A detta di Eliana Sarebbe niente Popo de meno Che è l'ex Di Manuela Arcuri Quanto può essere Una rogna A stare con L'ex Di Manuela Arcuri Secondo voi Cioè io la vivrei Malissimo Proprio ci avrei un complesso Di inferiorità Drammatico Il cognome Di Simone Coppi Suggerisce Nobili origini Infatti Simone Ne sarebbe imparentato Con Franco Coppi C'è praticamente uno Degli avvocati Più famosi In Italia Parliamo ragazzi C'è dell'avvocato Che ha difeso Giulio Andreotti Sabrina Misseri La famiglia Di Marco Vannini Francesco Totti Piero Angela Che cacchio ha fatto Di coppia Di coppia con Simone Racconta Che fanno tante scenette romantiche A lume di Candela Che lei Di giorno fa la spesa Poi torna a casa Lavora Aspetta Simone Gli prepara la scena Insomma ragazzi Una vita di coppia Completamente normale Gli spettatori Però giustamente Sono curiosi Perché Cioè soprattutto Quelli che L'hanno vista Uomini e donne Perché Avendo la vista Corteggiare Federico Adesso vorrebbero tanto Vedere la faccia Della persona Di cui alla fine Eliana si è innamorata La persona con cui Addirittura Si sta per sposare Adesso Una curiosità umana Secondo me Ragazzi Dal momento che parliamo Di una Che è diventata famosa Cercando l'amore In televisione Il problema È che la faccia Di questo Simone Coppi Sia introbabile Cioè Non esiste Una sua foto Non esiste Una foto Insieme ad Eliana Non esiste niente Cioè Non c'è traccia Di quest'uomo Da nessuna parte E quindi Le malelingue A una certa Iniziano a dire Eliana Ma non è che Sto Simone Coppi Te lo sei inventata tu Eliana ovviamente Ragazzi Smentisce Dice ma quando mai Ma cosa dite E giustifica Questa assenza Di tracce Di Simone Coppi Sul web Dicendo che Simone Sia un uomo Molto riservato E che inoltre Lui è un magistrato Infilato Nell'antimafia E quindi Di conseguenza La sua faccia Non la può fare vedere Pur volendo Sia per la propria sicurezza Che per quella Della stessa Eliana Infatti noi Insomma La faccia di Falcone Borsellino Cioè nessuno L'ha mai vista D'altra parte Però per si e per no Eliana si preoccupa Di fornire al pubblico Qualche prova Dell'esistenza Di Simone Giusto per mettere A tacere le voci Che mi pare giusto Per esempio Una sera pubblica Su Instagram Questa storia In cui Lo tagga Tra parentesi Ragazzi Simone Aveva il profilo privato Quindi non si poteva Cliccare Non si poteva Stolcherare Cosa scrive Eliana In questa storia Scrive L'amore Tu E sempre tu Simone Coppi Lo tagga Che il 2019 Ci dia ciò Che desideriamo Buon anno Amore Quindi il tizio Sfocato in fotografia Dovrebbe essere Questo Simone Coppi Ragazzi Inoltre Eliana Si tatua Il nome Simone Sulla spalla Come promemoria Insomma ragazzi Questa relazione Apparentemente Va avanti E il 20 dicembre Del 2009 Spuntano Sul blog Di Eliana Michelazzo Queste fosu In cui lei Come vedete Indossa un abito Da sposa E infatti Lo stesso giorno Eliana scrive Su facebook Ciao a tutti Da oggi è ufficiale Sono sposata Con Simone Abbiamo fatto la promessa Poi il 21 dicembre Faremo la cerimonia In chiesa Spero che siate felici Per noi Baci Da questo momento In poi Ragazzi Si sa poco e nulla Di Eliana E suo marito Simone E quindi Si suppone Che i due Continuino a stare Insieme A svolgere La loro Normale Consueta Vita matrimoniale Passano tanti anni In cui questi due Sono sposati Ma purtroppo Le amiche di Eliana Non avranno Mai 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 L'opportunità Di conoscere Questo Simone Sempre per questa cosa Che lui sia un magistrato Tanto è vero Che addirittura Ogni volta che Devono vedere Eliana Si incontrano Non a casa di Eliana Perché sia mai Che non lo so Passa Simone Per andare in bagno No Si incontrano A casa di Pamela 2 Pamela perricciolo Pamela 2 Infatti in questo lasso di tempo È diventata La migliore amica Di Eliana Sono diventate best friend E addirittura Le due si considerano Sorelle E insomma ragazzi Capita che Pamela 2 Organizzi Boh Diciamo Dei pigiama party Ebbene ragazzi Sentite questa Le amiche di Eliana Raccontano che Di volta in volta Lei Eliana Si presentasse A casa di Pamela 2 Per incontrarsi Con le amiche Con un troll E ce l'è Arrivava con la balligia Perché giustamente Siccome veniva Da casa sua In cui conviveva Con suo marito Simone Si doveva portare La propria roba Perché poi restava A dormire Da Pamela 2 Ok Mettiamo da parte Queste informazioni Passano gli anni Eliana e Simone Continuano ad essere Sposati felicemente L'agenzia Aicos Continua A lavorare E un giorno Nel 2018 Pamela Prati Diventa una cliente Della Aicos Quindi in pratica Eliana e Pamela 2 Diventano le sue agenti Pamela Prati Diventa sempre più amica Di Eliana e Pamela 2 Escono insieme Insomma Le tre ragazzi Diventano un trio Proprio un magnifico trio Guardatele Sembrano le tricks Il 26 novembre 2018 Pamela Prati Compie 60 anni La bellezza dei 60 anni E per il suo compleanno Pamela 2 Ed Eliana Le fanno un regalo speciale Rendendola direttrice Onoraria Della Aicos Management Addirittura Col senno di poi Se le regalavano Una tazza Era meglio Chi ha visto La Kanye West Saga Ormai Sa benissimo Che i regali speciali Preannunciano la tragedia A questo punto ragazzi Ci siamo ricollegati Al momento in cui Pamela Prati Dichiara su chi Di avere trovato Il vero amore Infatti siamo Nel novembre 2018 E come vi dicevo Barbara D'Urso Incuriosita da questa storia Invita Pamela Prati Nella propria trasmissione Domenica Live Per parlare Di questa love story E così Il 2 dicembre 2018 Ragazzi Succede Pamela Prati Va a Domenica Live E per la prima volta In televisione Parla di Marco Caltagirone E' l'inizio Di un'era Pamela Prati Arriva ed è patetica Nel senso proprio Che parla con un patetismo Degno del teatro greco Del quinto secolo Avanti Cristo E con questo tono patetico Si mette subito A dire a Barbara Barbara Allora io Ho trovato l'amore Ho trovato l'amore Della mia vita Marco è un uomo Meraviglioso Io lo amo Mi sta dando la famiglia Che ho sempre desiderato E parla con questi occhietti A cuoricino Che pare vero Lo amo da morire Un uomo meraviglioso E si mette a raccontare Come lo abbia conosciuto Questo Marco Caltagirone E racconta Barbara D'Urso Era l'aprile del 2018 Mi trovavo a una cena Con degli amici A una cena Attenzione Chissà dove Quando io l'ho visto Lui mi ha visto Lui mi ha guardata Io l'ho guardato Ci siamo guardati E lui mi ha detto Che mi guardi No non è vero ragazzi Non gliel'ha detto Insomma si sono guardati Intensamente E si sono riconosciuti Dice Pamela In che senso Si sono riconosciuti Allora Pamela Prati Dice che Praticamente Secondo lei I loro due Stavano insieme Già nella vita precedente Quindi quando si sono Rincontrati finalmente In questa vita Giustamente Si sono riconosciuti Subito Vorrei commentare Questa cosa Però verrà interrotta Continuamente Dai conati di vomito Quindi io direi Proseguiamo A questo punto Pamela Prati Se ne esce Con una notizia esplosiva Ovvero ragazzi Pamela Dice a Barbara Barbara Devi sapere Che io e Marco Ci amiamo così tanto Che già Nel giro di otto mesi Abbiamo preso In affido Due bambini Così In otto mesi Cioè tempi di consegna Rapidissimi A me in otto mesi Non mi arriva manco Il pacco di wish A Pamela Prati E Marco Caltagirone Danno due figli Cioè non uno Poi due Un maschio E una femmina Pamela Prati Però specifica Che questi bambini Siano in affidamento Per l'appunto Ovvero stanno con loro Solo nel periodo Delle vacanze Questo Attenzione Significa che Di fatto Loro Non possano Prendere decisioni Giuridiche Per questi bambini Cioè non esercitano La patria podestà Su questi bambini Comunque Nonostante ciò Pamela Si considera La loro mamma Che ci sta È una cosa bellissima Sono anche papà E dice Io però I miei figli Li voglio tutelare Dal gossip E dalle telecamere E insomma ragazzi Parlando di questi bambini A un certo punto Pamela Prati Si commuove Ma si commuove In un modo Cioè piange un sacco Ho pure dovuto preparare Un contenitore Per poter raccogliere Tutte queste lacrime Di Pamela Prati Ragazzi Perché come vedete Sono troppe Rischiamo di morire affogati Quindi ecco Mettile qua A questo punto Pamela Fa vedere a Barbara D'Urso Che i suoi bambini Le abbiano regalato Un bracciale E proprio Glielo mostra Questo bracciale E al che Barbara D'Urso Ne approfitta Per comunicare A Pamela Che a tal proposito Ha per lei Un paio di sorpresine Da parte del suo Marco Caltagirone E dei suoi figli Ovvero una lettera Dei disegni Fatti dai bambini E un pacco regalo La lettera Ragazzi Viene Trasmessa Sotto forma Di un Video Melenso Fatto tipo Con Windows Movie Maker E in sostanza Mentre scorrono Le immagini C'è questa voce Maschile In sottofondo Che legge parole D'amore Proprio Banalissime L'inferno Me lo immagino Con questo video Proiettato in loop Per l'eternità Questi invece Sono i disegni Che hanno fatto Per Pamela I suoi figli I bambini Disegni Che presso Ci ritroveremo Nei libri di storia Dell'arte Nello stesso capitolo Delle teste Di Modigliani Su questi disegni Ci viene pure fornita La spiegazione Infatti Pamela Prati Spiega che Questa figura Più o meno Antropomorfa Rappresenti lei Mentre Questa casetta Rappresenta Il luogo In cui Presso Andranno a vivere Tutti insieme La casa Ragazzi Una riproduzione Proprio fedele Fedele All'originale Piccolina Accogliente E immaginaria Infine ragazzi Pamela Apre questo pacco Che gli ha inviato Marco Caltagirone E dentro questo pacco Ci trova Una chiave Ovviamente Il portachiavi Manco a dirlo È una rosa Enorme Nelle dimensioni Della sua testa E a quanto pare Si tratta proprio Della chiave Di casa C'è la nuova casa Ragazzi In cui Pamela Marco Caltagirone E i due bambini Presi in affido Stanno per andare A convivere Tutti insieme Appassionatamente Questa qui Come se Tutte queste manifestazioni D'amore Non fossero sufficienti Per lasciarci con un leggero senso Di nausea Per i prossimi tre mesi Pamela Prati Ci dà la stoccata finale Tipo la colomba a Natale Dopo l'ottava portata Avete presente Questa sensazione Spiacevole Ecco così E infatti Come ci leggina Sulla torta Pamela Mostra L'anello Che Marco Le ha regalato Quando le ha chiesto Di sposarla Momento tra l'altro Documentato Da questo video qui Che come video Insomma è un po' strano Nel senso Di solito In questa tipologia Di video Nei video in cui Viene regalato L'anello Si vedono entrambi I promessi sposi C'è tipo lui Che si inginocchia Lei che fa così Invece in questo caso Si vede solo Pamela Prati Perché Marco Caltagirone È impegnato A tenere il cellulare Evidentemente Cioè immaginate Il romanticismo Aprire l'anello Di fidanzamento Mentre lui Ti tiene il telefono Davanti la faccia Così Sto piangendo Pamela Prati Specifica che non si tratti Di un anello Qualsiasi ragazzi Ma che cosa Che fa scherziamo Si tratta di una vera Fede nuziale Perché lei E Marco Caltagirone Si sposeranno Presto Però Loro si sentono Già sposati Cioè si sentono Già marito e moglie Quindi si sono Scambiati le fedi Io mi sento Pienamente rappresentata Dalla reazione Di Barbara D'Urso Ora ragazzi Nel corso Di questa intervista Pamela Prati Dice anche Alcune cose Che assolutamente Ci dobbiamo appuntare E ce le dobbiamo ricordare Perché sono Indubbiamente Dei campanelli D'allarme Ci torneranno Utili Più avanti Si tratta Di due cose In particolare Punto primo Parlando di Marco Caltagirone Pamela Prati Dice Lui e me Al maschile E qua Già io Vedo le lucciole Punto secondo Parlando della figlia Presa in affido Pamela dice Neanche a farlo apposta La femmina Fa la ballerina Quindi Abbiamo già Una serie di coincidenze Perché Pamela Prati C'ha l'uomo Che è uguale Uguale a lei E' una figlia Che benché Non sia cresciuta Con lei Casualmente C'ha la sua stessa Passione Dico Può capitare Però Ricordiamoci Queste cose Benissimo ragazzi L'ospitata di Barbara D'Urso Si conclude Con Pamela Prati Che manda un bacio A Marco E ai figli Che la guardano Da casa E dice loro Che li ama Ve lo faccio vedere Va che è meglio Grazie Sebbene Capiamo E scusa Marco Da questo momento In poi Pamela Prati Domina i salotti Televisivi Se li gira Tutti ragazzi Per parlare Di questo Marco Caltagirone Si reca Per esempio Nella trasmissione Vieni da me Dove Intervistata da Caterina Balivo Questa volta Approfondisce meglio Il suo rapporto Con i figli Mostrando addirittura Le loro tazze Guardate che sono belle Le loro tazze Ognuno C'ha il nome Scritto sopra Ragazzi Ve li immaginate A fare tutti i colazioni Insieme Ognuno Con la propria Tazza Cioè Sai Sai la mattina Quando ti svegli E non ti ricordi Manco come ti chiami Allora non succede Pamela Prati Infatti dice A Caterina Balivo Che ormai Convivono Tutti insieme Sono andati A vivere In questa casa Ragazzi Lei Marco Caltagirone E i figli E a questo punto Ci vengono pure Detti i nomi Dei bambini Che lei E Marco Caltagirone Hanno preso in affido Ovvero Ragazzi Sebastian E Rebecca Sebastian il maschietto C'ha 11 anni Mentre Rebecca Di anni Ne ha 6 E come già Abbiamo detto E come già Ha detto Ha avuto modo Di dire lei stessa Ma lo ripeti Ogni volta Che ne ha l'occasione Fa la ballerina Tra l'altro Durante questa intervista Da Caterina Balivo Avvieni da me Pamela Prati Esagera Proprio esagera Con i sentimenti In una maniera Cioè Si può definire Solo patetica Ragazzi Perché sta tutto Il tempo a dire Io amo Marco Marco è l'uomo Della mia vita Non amo nessuno Al mondo più di Marco Marco è un uomo D'altri tempi Io e Marco Saremo per sempre insieme Cioè Sembra che stia leggendo Le frasi Che scrivevo Sul banco di scuola Perché Marco È proprio l'amore È lui Io ho aspettato Tutta la vita Lui Io non ho passato Io sono presente e futuro Ci sposeremo Non ci sono uomini Come lui Siamo veramente Questo Ora Secondo me È un po' Immaturo Per una donna Della sua età Ragazzi Cioè ricordiamo Che a questo punto Pamela Prati Dice a 60 anni E a tratti È proprio conturbante Il suo comportamento Perché fa delle cose Inquietanti Tipo certe volte Guarda in camera E dice Marco ti amo Marco ti ringrazio Ti amo da morire Ci sono persone Di nome Marco Che sono finite in terapia Dopo queste interviste Insomma a parte Da Caterina Balivo Pamela Viene intervistata Anche dai giornali Di gossip Viene intervistata Anche dalle radio Ragazzi Proprio in radio Alla trasmissione Un giorno da pecora Pamela Prati Annuncia che Attenzione Alla fine Di marzo Lei e Marco Caltagirone Si sposeranno E addirittura Escono sul settimanale Gente Le foto Di Pamela Prati Che prova Gli abiti da sposa Che fa le prove Trucco Pamela ragazzi Rivela Che questo matrimonio Che sarà un matrimonio In grande Un matrimonio Da favola Glielo stiano Organizzando Le sue agenti Pamela 2 Ed Eliana E dice che già Le hanno scelto Tutto Lo chef La location Il menu Gli invitati Ce le dice che Saranno invitati I personaggi Del calibro Di Simona Ventura Mara Venier Insomma Racconta tutte queste cose Giornale di gossip Palle radio E poi Silenzio Del matrimonio Tra Marco Caltagirone E Pamela Prati All'improvviso Non se ne sa Più niente Marzo scorre Le conduttrici Delle trasmissioni Cercano di mettersi In contatto Con Pamela Prati Ma lei manco Risponde più al telefono Eppure Mara Venier Cerca di chiamarla Insistentemente Ragazzi C'è soprattutto lei Perché Comunque Pamela Prati Ha detto che L'avrebbe invitata Il matrimonio Alla fine di marzo Quindi Cioè Marzo sta finendo E Mara Venier Ancora non ha ricevuto Nessuna partecipazione E giustamente dice Ma non facciamo Che Il mio invito S'è perso per strada E magari Mi perdo Questo grande Evento nazionale Quindi giustamente Mara Venier La chiama La chiama Però Pamela Prati Non le risponde In tutto ciò Mara Venier Dovete sapere Che è amica Di Pamela Prati E Infatti Alla fine Ci riesce A mettersi in contatto Con Pamela E già che c'è Già che ci parla Al telefono Le dice Guarda Pamela Perché non vieni Nella mia trasmissione Perché non vieni A Domenica In che ti intervisto E parliamo un pochettino E così Il 31 marzo 2019 Pamela Si presenta A Domenica In dicendo A Mara Mi devi scusare Praticamente Sono sparita Perché sono stata 8 giorni All'addio al nubilato In Egitto E sono appena tornata Ah Ma lei non era Quella che aveva paura Di volare Che è successo L'amore Pamela dice Che grazie all'amore Per Marco Caltagirone Ha superato La sua paura Di volare Anche grazie all'amore Dei suoi figli Perché lei Mentre era sull'aereo Immaginava intensamente Che ci fosse Che ci fosse Suo figlio Sebastiano A tenerle la mano E a dirle Mamma Forza Ce la puoi fare Grazie a questo Ragazzi Grazie a ciò Grazie all'amore Adesso Pamela Prati Prende l'aereo Che è una meraviglia Viaggia Capito Viaggia in treno Perché aveva paura Pure del treno E tutto Grazie a Marco L'amore E la soluzione A tutto Dice Pamela Prati E a un certo punto Ovviamente Maravenier Le chiede Ok Tutto molto bello Pamela Però Tu non ti dovevi Sposare a fine marzo Cioè È il 31 Come finì E Pamela Prati Ragazzi Risponde Sì ma infatti Io e Marco Già ci siamo sposati Ah Però scusa Cioè Se sei appena Tornata Dall'addio Al nubilato Quando vi siete Sposati esattamente Stanotte Cioè Non ha senso Perché Dico io Se L'evento più recente Ok In cui sei stata coinvolta È stato il tuo matrimonio Quando sei arrivata in studio Non avessi dovuto dire Scusa Mi sono sparita Perché sono stata All'addio al nubilato Penso che in automatico Ti sarebbe venuto da dire Scusa Mi sono sparita Perché Mi sono sposata Vabbè Insomma Non interroghiamoci troppo In questa fase Ma di fatto Che I due Secondo Pamela Prati Si siano sposati In gran segreto E a un certo punto Ragazzi Mentre Pamela racconta Questa cosa Che appunto Si siano sposati All'improvviso Si toglie la fede E per qualche motivo La dà A Mara Venier E le dice Tieni Guarda Leggi Leggi Che c'è scritto Il suo nome Dentro la mia fede Perché Cioè Non è una cosa Eccezionale Avere una scritta Dentro la fede Ce l'hanno Tutte le fedi Qual è il motivo Di togliertela E farla vedere A una conduttrice Televisiva Questa cosa Ma anche a una tua amica Capito Cioè ma ti pare Che ti togli la fede E le dici Guarda C'è scritto Il nome Di mio marito Ma grazie al cazzo Che ci deve essere scritto Il nome del tuo amante Cioè io posso capire Se dentro sta fede Ci fosse stato scritto Un anello Per ghermirli Un anello Per dumarli E nel buio Incatenarli Allora dici Mizzica Devo farla vedere A tu Tieni Mara Guarda che cosa C'è scritto Dentro la mia fede Eh La vorresti anche tu Come la mia Quindi palesemente Pamela Prati Sta ostentando E l'ostentazione Nasconde sempre Una qualche mancanza Ragazzi Comunque Dopodiché Pamela Prati Ragazzi Inizia di nuovo La sua litania Su quanto lei Ami Marco C'è un amore Veramente Da toglierti il fiato Su quanto sia felice Di avere una famiglia Di essere una madre Cioè lei Continua proprio A ripetere ossessivamente Io sono una mamma Io sono una moglie Cioè io sono Mamma Mara Ti rendi conto Non potete capire Ragazzi Quante volte Mara Venier Nel corso Di quest'intervista Poverina Cerchi di cambiare Argomento Ma ogni suo sforzo Niente È inutile Perché Pamela Prati Trova sempre il modo Di tornare a battere A mazza E di tornare a parlare Di Marco Caltagirone Cioè è tipo Un'ossessione Ma a livelli patologici A un certo punto Mara Le fa vedere Tipo la foto Di sua madre Cioè la madre Defunta Di Pamela Prati Pace all'anima sua Chiede a Chiede a Pamela Di parlare Un po' Del rapporto Che c'aveva Da piccola Con la madre E Pamela Risponde Poi ci riprova Mara Venier A cambiare Discorso E le dice Vabbè Pamela A questo punto Parliamo di tuo padre È vero Che ti ha abbandonata Quando avevi un anno e mezzo Tuo padre E Pamela Ragazzi Risponde Sì Infatti Io ho sempre voluto Una famiglia vera E finalmente Ce l'ho Finalmente Ho una famiglia Perché io sono una moglie Sono una mamma Sono italiana Insomma ragazzi La cosa tocca A livelli di patetismo Tali che Mara Venier Inizia a farle il verso Addirittura Il bagaglino rimarrà Per me Ma tu non torneresti Perché ormai Sei moglie E mamma Esatto Oh L'hai capito L'ha capito Moglie E mamma Perché L'avete capito Ed è a questo punto Non ce la posso fare Ed è a questo punto Ragazzi Che a domenica In Parte a tutto volume Una rivisitazione Della canzone Mamma Maria E Pamela Prati Si mette a ballare Sulle note Di Mamma 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 Pamela Mamma Mamma E questa era La mia faccia Mentre guardavo Tutto ciò Ora ragazzi Ci sono un paio Ci sono un paio Di cose Che stonano Nella narrazione Di Pamela Prati Cioè Cose che Mentre lei Racconta Secondo me Fanno percepire Agli spettatori Una mancanza Una mancanza Di realismo La prima Quell'altro Non è proprio Bellissimo Secondo me Magari Bello Ma Bellissimo Ma Neanche Bello Attenzione Ci sono tante cose Bellissime Nella maternità Però Prendere ordini Da un puffo Invasato Non è nella lista Cioè Quanto meno Non è proprio La prima cosa Che ti viene in mente Cioè Secondo me Nessuno Si sognerebbe Mai Di dire Bellissimo Quando mio figlio Dice Mamma Fai questo Mamma Fai quello Mamma Fai quell'altro Cioè Capito Se proprio Devi parlare Di quanto Ti piaccia La maternità Dici Qualcos'altro Dici tipo Boh È bellissimo Quando andiamo Al parco Insieme Inoltre Ragazzi Ormai È chiaro Che Pamela Prati In ogni Trasmissione Ripeta Sempre le stesse Cose Perché questa Ormai È tipo La sua Quarta Quinta Intervista E ogni volta Che ha Raccontato La propria Storia Ha sempre Formulato Le frasi Nello stesso Identico Modo Cioè È come Se sapesse un copione A memoria Capito È come Se proprio Avesse un Repertorio Di frasi Pronte Da ripetere Sempre Che sono Per esempio Ci siamo Guardati E ci siamo Innamorati Subito Grazie a lui Ho superato La paura Di volare Marco È un uomo Meraviglioso Rebecca Fa la ballerina Ma anche Frasi più lunghe Di queste Ragazzi Ora non me le Ricordo A memoria Se riesco Vi faccio Proprio Un montaggio E ve lo Faccio partire Adesso Mi sta dando Quello che ho Sempre desiderato Mi ha dato Quello che ho Sempre desiderato Mi ha dato Quello che ho Sempre desiderato Sei e undici Sei la bambina E undici anni Bambina Rebassa Ha undici anni E Rebecca Ha sei anni E pensa Rebecca Fa la ballerina Undici e sei anni E Rebecca Fa la ballerina Fa la ballerina Ho preso il treno Perché l'amore È potuto È la miglior medicina Che esista In assoluto Non c'è Miglior cura Dell'amore Dentro c'è il mio nome Il suo nome E lui ha quella Quella col mio nome Dentro c'è il suo nome E lui ha Quella col mio nome Come se Noi ci fossimo amati In altre vite Ci siamo amati In tante altre vite Ora ragazzi In questo repertorio Di frasi fatte Ce n'è una Di frase fatta Che secondo me È particolarmente Inquietante E cioè La seguente Infatti noi vivremo Tra l'America E la Francia Proprio per tutelare Perché La mia famiglia Ora La domanda Sorge spontanea Da cosa Vi dovete tutelare Esattamente Cioè Cosa siete Esiliati Politici Ma soprattutto Che cacchio Significa vivere Tra l'America E la Francia Cioè L'America è qua La Francia è dall'altra parte Del planisfero Capito In un altro continente C'è un sacco di strada Tra un posto e l'altro Ci vogliono documenti diversi Che significa Vivere tra l'America E la Francia Che cosa avete preso Casa Nell'oceano atlantico Ma poi In America dove Cioè L'America è enorme America Una parola Direi Ma pure la Francia è enorme Dove andate Al sud A nord A Parigi In costa azzurra Cioè Dove Cioè qua c'è l'America E qua c'è la Francia In pratica ragazzi Andranno a vivere Da qualche parte Sul pianeta Terra Essendo una cosa Un pochettino strana Da dire Ce ne andiamo Tra l'America E la Francia Perché ci dobbiamo tutelare Giustamente Le conduttrici Quando sentono Pamela Prati dire queste parole Si scioccano Cioè Giustamente Se una persona Ti dice Ci dobbiamo tutelare Quindi emigriamo Che cosa pensi Che si trovi in pericolo Che sia minacciata Da qualcosa Quindi ti viene automatico Allarmarti E magari fare Delle domande E infatti ragazzi Le conduttrici Si allarmano E fanno delle domande Cioè chiedono a Pamela Prati Ma da cosa vi dovete tutelare Che cosa succede E Pamela Prati Quando viene messa davanti A questa domanda Cade dalle nuvole Cioè Come se in effetti Lei non ci abbia pensato Lei non ci abbia pensato Non se l'è chiesto Cioè lei sa Che la sua famiglia Debba tutelarsi Da qualcosa Al punto Da dover Dover vagabondare Da un continente All'altro Però da cosa Boh Cioè è un dubbio Che non Non l'è sorto E c'è un altro dubbio Che a quanto pare A Pamela Non è sorto Ragazzi Ovvero Come cacchio faccio A portarmi dietro Da un continente All'altro Due bambini Che ho in affido Perché non puoi Cioè non li hai adottati Quindi Non puoi farla Questa cosa Non possono uscire Dal Da un paese O Non lo so Passare da un paese All'altro Con questa naturalezza A meno che Tutelarsi Per Pamela Non significhi Vivere proprio Da latitante Da fuggitiva Perché Intende rapire Due minori In tal caso Avrebbe senso Tutto quanto Però non credo Vabbè comunque In tutto ciò Pamela dice A Maravenier Che anche se Lei e Marco Si sono già sposati In gran segreto Hanno fatto solo Il rito civile Di conseguenza Ancora si devono Sposare in chiesa E la cerimonia Religiosa Ragazzi Verrà trasmessa In televisione Addirittura E verrà trasmessa In esclusiva Su canale 5 Per l'esattezza Da verissimo Questo significa Che il matrimonio Tra Pamela Prati E Marco Caltagirone Sarà Pubblico E sarà Di conseguenza Un evento nazionale Incredibile Ragazzi Perché Marco Caltagirone Sebbene sia Un uomo Molto riservato Per amore Di Pamela Per la primissima Volta Si farà Riprendere Dalle telecamere E così Vedremo tutti quanti Per la primissima Volta La faccia Dell'uomo Che ha rubato Il cuore A Pamela Prati Capite che si crea Un hype Per sto matrimonio Che in confronto Le royal weddings Sono state una sagra Di paese Anche perché A questo punto Dovete sapere Che la gente Inizia ad essere Molto curiosa Sul web Si googla Marco Caltagirone Come non mai Come se non ci fosse Un domani Nel tentativo Di trovare Una foto Di quest'uomo Che Pamela Prati Descrive come Bellissimo Biondo Con gli occhi azzurri E però Nessuno Ragazzi Riesce a trovare Niente di sostanzioso Che Dico Per carità Ci può stare Non è che per forza Tutti quanti Ora dobbiamo Necessariamente Avere foto nostre Su internet Però Diciamo Che il fatto Che non si conosca La sua faccia La faccia Di Marco Caltagirone Paradossalmente Genera più interesse Verso la sua persona Genera più Curiosità Di vederlo Una curiosità Che però Siamo tutti quanti Costretti a soffocare Perché purtroppo Che ci piaccia O no Ragazzi Questo Marco Caltagirone Ci tiene troppo Alla propria privacy Tant'è vero Che per esempio Pamela Prati Mette delle storie Su Instagram Oppure dei post In cui si capisce Che è con lui Perché lo tagga Tra parentesi Lui ha il profilo privato Manco a dirlo Quindi non Non lo possiamo Stolcherare Neanche in questo caso Però Marco Ragazzi In questi scatti Non viene mai Inquadrato Per esempio Pamela Prati Qua è in pizzeria Ci sono ben due Pizze sul tavolo Quindi si capisce Che non sia da sola E scrive Finalmente Perché a noi Bastano anche Due pizze Magari a me Anche tre Gnam E tagga Marco Caltagirone Quindi a conti fatti L'altra pizza Sul tavolo È necessariamente Sua Di Marco Caltagirone E infatti Ragazzi Marco Le risponde pure Commentando La finisci Di copiarmi Le cose Con una pioggia Di faccine Che ridono Infine Una rosa Insomma ragazzi Tutto regolare Se non fosse Che a un certo punto Sul web Viene fuori Questo Cos'è Questo L'inizio Della fine Questo È il certificato Di Pamela Prati Preso direttamente Dal registro Del comune Di Roma È proprio lei Ragazzi Perché Prati Pamela Nata il 26 Lei ha cambiato nome Comunque Si chiamava Paola Pireddo Ha cambiato nome All'anagrafe Nata il 26 Novembre 1958 Residente a Roma È lei Ragazzi Cioè Parliamo di questa Pamela Prati Ebbene Nonostante Pamela Prati Abbia dichiarato In televisione Di essersi già sposata Con Marco Caltagirone In comune Ve la ricordate Questa cosa Vi rinfresco Un attimino La memoria L'ha detto Amara Venier Ecco Noi ci siamo Già sposati Nonostante Lei abbia detto Ciò Lei Di fatto Al comune Risulta Come potete leggere Con i vostri occhi Ragazzi Nubile Quindi Ne consegue Che Pamela Prati In tv Abbia detto Una bugia Perché in realtà Non si è mai sposata E questa bugia Unita al fatto Che non esista Neanche una singola Misera foto Di Pamela Prati Con suo marito A questo punto Ragazzi Giustamente Fa nascere Il sospetto Anzi Scusate Fa nascere Un vero e proprio Complotto Ma non è che Marco Caltagirone Non esiste Ed è a questo punto Che il giornale Di gossip Da gospia Prende di mira La questione Decide di indagare La fa sua Ragazzi E si domanda Chi è Marco Caltagirone Chi è questo Per mesi Giorno dopo giorno Da gospia Aggiunge un nuovo tassello A questo puzzle E alla fine La ricostruzione Che ne esce Ragazzi È sconcertante Proprio al limite Dell'assurdo E quindi adesso Anche noi Andiamo a rispondere Alla domanda Chi è Marco Caltagirone La mia voce nasale Rende tutto più suggestivo Allora Su internet Si trovano Delle informazioni Su questo tizio E provengono Per l'esattezza Da due interviste Fatte proprio A Marco Caltagirone Ragazzi Entrambe del 2017 Che prestapoco Dicono le stesse cose Ricordiamoci quindi Che si tratta Di un periodo In cui ancora Pamela Prati Non aveva avuto L'onore di conoscerlo Quanto meno In questa vita Allora Cosa viene fuori Dalle interviste La seguente cosa Dunque Marco Caltagirone Nasce a Roma Il 10 luglio 1965 Io mi immagino La scena di sua madre Che partorisce Congratulazioni signore È un bellissimo niente A giudicare dal nome A giudicare dal fatto Che sia romano Marco Caltagirone Potrebbe essere Imparentato Con una famiglia Di costruttori romani Molto famosa E molto prestigiosa E a supporto Di questa ipotesi C'è il fatto Che a un certo punto Della sua vita Marco si trasferisca Negli Stati Uniti Dove tutti Iniziano a chiamarlo Mark Mark Caltagirone E negli Stati Uniti Guarda caso Mark Caltagirone Si butta Sull'edilizia Fondando La Mark Caltagirone Holding E diventando quindi Un imprenditore Edile Quindi anche lui Come i famosi Caltagirone Di Roma Fa costruire Le cose Questa cosa Non è mai stato Chiarito Se fosse una coincidenza O se fossero effettivamente Imparentati Comunque lui non è solo Un imprenditore edile Qualsiasi ragazzi Lui è L'imprenditore edile Cioè le sue opere Sono famose in tutto il mondo Perché Mark Caltagirone Ha costruito dighe in Canada Oleodotti in Libri In Libia Ospedali e centri commerciali In Cina Arma di Annarnia E la sua abilità è tale Che in Albania Addirittura Lo chiamano Per consegnargli Il premio Di migliore imprenditore Di tutta l'Italia Che ha senso Cioè uno in Albania Viene premiato Migliore imprenditore D'Italia Nel 2017 Mark Caltagirone Si dice prossimo Alle nozze Con una donna Abbastanza importante Ovvero Una politica calabrese Vi leggo infatti Quello che Mark Dichiara Al giornale Il Gallo A proposito Della sua compagna Non avrei mai pensato Che a 50 anni E con i ritmi frenetici Che abbiamo entrambi Parla appunto Della sua compagna Avrei preso La decisione Di vivere la mia vita In due Ma con lei Ho trovato Il giusto equilibrio E prima dell'amore Viene la mia stima E la mia grande fiducia Incondizionata In lei Siamo stati fortunati Non avrei mai creduto Si potesse dividere Tutto con una persona E invece si Abbiamo deciso Di prendere in affido Un figlio Che è diventato La nostra Più bella sfida Lei è una politica Calabrese Lei è una politica Calabrese Quindi ragazzi Attenzione Perché Mark Caltagirone Nel 2017 Avrebbe preso In affido Un figlio Con una politica Calabrese E chi sarebbe Questa gentil donna È un tastello Importantissimo Questo ragazzi Cioè esiste Una tizia Molto autorevole In Calabria Perché si tratta Di una politica Che può confermare O smentire L'esistenza Di questa persona Di Mark Caltagirone Per scoprire Chi sia Ragazzi Basta andare Sul profilo Facebook Di Mark Ovvero Questo qui Appunto Marco Caltagirone Mark Su Facebook Non c'ha Manco una foto Che lo ritragga In faccia In compenso Posta un milione Di foto Di questa Bella donna E chi è Costei? Si tratta Ragazzi Di Vanda Ferro Una deputata Di Fratelli D'Italia Il partito Di Giorgia Meloni La nostra Attuale Il nostro Attuale President Del consiglio Ed è calabrese Per l'appunto Addirittura Vanda Ferro È stata Presidente Della provincia Di Catanzaro Quindi Se 2 più 2 Mi fa 4 Ragazzi La politica Calabrese Con cui Mark Caltagirone Avrebbe preso Un filo In affido È proprio Lei Questa Vanda Ferro E scorrendo Il profilo Facebook Di Mark Si trovano Tante prove A sostegno Del fatto Che I due Abbiano Un qualche Tipo Di legame A partire Da questo Infatti Il 26 Aprile Del 2016 Quindi già Un anno Prima Dell'intervista Addirittura Ragazzi Mark Aveva Aggiornato Su Facebook La situazione Sentimentale Scrivendo Sposato Vanda Al tempo Nel 2016 Aveva risposto Con dei cuoricini E Mark A sua volta Le aveva risposto Mia per sempre Addirittura Qualcuno Te doveva Incatenare Ferro Fortunato Io Quindi ragazzi Stanno insieme Già dal 2016 Tra l'altro Tra i commenti Potete notare Le felicitazioni Da parte Di una certa Donna Pamela Perricciolo Che altri Non sarebbe Ragazzi Che è Pamela 2 Pamela 2 Conosce Marco Caltagirone Da ben prima Di conoscere Pamela Prati E infatti Sarà proprio Lei a presentarglielo Ma Andiamo per ordine Cioè a presentarglielo Andiamo per ordine Sul profilo Di Mark Caltagirone Compaiono Delle foto Insieme a un cane Uno Yorkshire Di nome Oscar E guarda caso Nel 2014 Vandaferro Dichiarò Di avere Un cane Di nome Oscar Ognuno Mostri quel che ha Ho fatto vedere Oscar Quindi ragazzi Più ci si addentra In questa storia Più ci sono prove Che questa Vandaferro Stia con Mark Caltagirone Come se non bastasse Mark Posta su Facebook La foto Di quello che dovrebbe Essere il proprio braccio Sul quale C'è un tatuaggio A forma di W Che guardato Al rovescio Forma Una M O viceversa Insomma Seconda di come Lo guardi È O l'iniziale Di Marco Oppure l'iniziale Di Wanda Insomma ragazzi A questo punto Possiamo dire Che la donna A cui Mark Caltagirone Si riferisce Nell'intervista La politica Calabrese Con la quale Avrebbe preso Un figlio In affido Sia proprio Sia proprio Ebbene Nel 2017 Il 24 settembre Del 2017 Mark annuncia Su Facebook Mi sposo Da questo momento In poi Marco Caltagirone Si mette a pubblicare Foto di fedi Ad oltranza Una fede Con dentro Scritto Oltre Delle fedi Incrociate Delle mani Che indossano Una fede Si mette persino Una fede Come immagine Del profilo In pratica Non si capisce Se abbia un fetish Per le fedi Questo Mark Caltagirone Oppure Se Mark Caltagirone Di fatto Sia una fede Non mi sento Di escluderlo Tra l'altro È tutto confuso Cioè Non si capisce Se questi Siano sposati O si debbano Sposare Capito Perché Cioè Si devono Sposare In teoria Però Già si sono Scambiati Le fedi 87 volte Perché Una volta Scrive Guardate le nostre Nuove fedi Un'altra volta Mette un'altra fede Scrive Ci sposiamo Che io dico Ma quante fedi C'ha questo In casa Cioè C'ha più oro In casa Mark Caltagirone Che zio Paperone E in tutto Ciò Non c'è mai Neanche Una foto Di Wandaferro Insieme a lui Che non ha alcun Senso Visto che Lei Diciamo Proprio Viene sbattuta Sulla sua pagina Facebook In continuazione Cioè Se hai questo tipo Di sensibilità Che ti porta ad essere Riservato Riservi pure Le vite Degli altri Invece In questo caso No ragazzi Perché Cioè Si fa proprio Un abuso Della faccia Di Wandaferro Sul profilo Di Marco Caltagirone Ma parliamo Del bambino Chi è Il figlio Che hanno preso In affido Sti due Ebbene ragazzi Sedetevi Perché questo Bambino Si chiama Sebastian Esattamente Come il bambino Che Pamela Prati Un anno dopo Dirà di aver preso In affido Insieme A Marco Caltagirone Sebastian 11 anni Rebecca 6 anni Allora andiamo Per ordine Ragazzi Sebastian Caltagirone Sta su Facebook Sui social Si chiama Seba Caltagirone E condivide Spesso post Come questo Come vedete Lo screenshot Di una storia Di Mark Caltagirone Che gli fa gli auguri Di compleanno E questo Seba Caltagirone Risponde A Sta storia Scrivendo Grazie papà Sei il migliore papà Che esiste TVB In un'altra occasione Sempre questo Seba Caltagirone Pubblica Un disegno Di Batman Scrivendo Sei e sarei sempre Il mio supereroe Preferito Grazie di essere Voluto essere Il mio papà Auguri Ti voglio bene Tagga Marco Caltagirone Mi mancherai Ora In generale I commenti Di Sebastian Compaiono Frequentemente Sulla pagina Facebook Di Marco Caltagirone E Sul proprio Profilo Sul profilo Di Seba Caltagirone Sto bambino Condividi addirittura Delle foto Come questa qui Mostrando la propria Faccia Che dico io Ma scusami Cioè Ritorna la stessa Questione Tu sei Riservato Al punto Che non esiste In tutto l'internet Manco una foto Che non lo so Ti piglia Di sgricio E lasci Che tuo figlio Di quanti anni C'ha qua Nove anni Abbia il profilo Facebook E su questo profilo Facebook Metta le foto Della propria Faccia Tra l'altro così In primissimo piano Che gli vedi pure i pori Della pelle Dov'è la logica Significa che se tu non mostri La tua faccia Non è perché sei una persona Riservata È perché C'hai qualcosa Da nascondere Comunque sia Ragazzi Proprio grazie a questa foto Sappiamo Che in quest'altra foto L'onorevole Vandaferro Sia in dolce compagnia Proprio del piccolo Sebastiano Caltagirone Ma c'è qualcosa Che non quadra Ragazzi Allora Non so se lo sapete Andando a guardare L'url Di un profilo Facebook Nella barra Di ricerca Si può risalire A quale sia Il primissimo nome Che ha avuto L'account in questione Quando è stato creato Ad esempio Ragazzi Quando io ho aperto Il mio profilo Facebook Al tempo Mi chiamavo Iris Regenbogen E anche se Adesso il mio nome Risulta Iris Babilonia Su Facebook Perché ovviamente Poi l'ho modificato Se andate a guardare La barra di ricerca Io sono ancora Iris Regenbogen Nell'url Ebbene ragazzi Questo Sebacaltagirone A quanto pare Originariamente Stando al suo url Si chiamava Joe Inolem Un nome alquanto bizzarro Per un bambino Di 10 anni Soprattutto Nella considerazione Che Inolem Letto al contrario È Meloni Quindi Sebacaltagirone Quando il profilo È stato creato Si chiamava Joe Meloni Però Meloni È al contrario Giorgia Meloni Ragazzi Ricordiamo Che sia La leader Del partito Fratelli d'Italia Al quale appartiene Vandaferro È molto strano Per il momento Facciamo spallucce E andiamo avanti Questo Sebacaltagirone Ragazzi Purtroppo Sembra avere Una salute Molto cagionevole Perché ogni 2x3 Sto bambino C'ha la febbre Per esempio Qui vediamo Che scrive su Facebook Ho la febbre alta Per rispondere a tutti In privato Ma grazie a tutti E vi voglio bene Tra l'altro C'è Pamela 2 Che gli risponde Dolcissimo Ti muovi a guarire Viziato Proprio un bignè Alla panna Dimenticato fuori dal frigo Per 6 mesi Qui invece Sebacaltagirone Condivide la foto Di un termometro Dimostrando di avere La febbre Praticamente a 40 E quindi tutti Gli fanno gli auguri Di pronta guarigione Ovviamente E tra questi tutti Ragazzi c'è una tizia in particolare Che si chiama Silvia Sbrigoli Silvia ragazzi Gli scrive Il mio piccolo tesoro Sei lontano Altrimenti le medicine Non mancavano Ti scrivo dopo E se ti va Ci scriviamo un po' Così non ti senti solo Questa Silvia Sbrigoli Ragazzi commenta spessissimo I post di Sebacaltagirone Quindi andiamo un attimino A scoprire chi sia Silvia Sbrigoli È un'amicona Di Marc Caltagirone Addirittura i due Si scambiano il buongiorno Su facebook Si scambiano la buonanotte C'è persino una foto In cui lei Lo tagga E in cui si dovrebbe Vedere un pezzettino Di Marc Caltagirone Si tratta di uno scatto Rubato a Marc Di nascosso All'interno di un ristorante Tant'è che Silvia Condivide la foto Sto scrivendo Marco Caltagirone Sei paparazzato Dalle mie amiche Che mi inviano I tuoi spostamenti Ora ragazzi Queste sono le foto Di Silvia Sbrigoli Lei è questa Una bellissima donna Come vedete Ed è anche molto fortunata Cioè pensate È stata così fortunata Da nascere Identica All'influencer Flora Pellino Potrebbe quasi essere La stessa persona Cioè ma Sapete quante probabilità Ci sono Di avere una sequenza Di DNA Identica A quella di un altro Essere umano Zero Infatti tutte le foto Che ci sono sul profilo Di Silvia Sbrigoli Sono state rubate A Flora Pellino Influencer Da 100.000 followers Che dal canto suo Non ne sapeva niente Di fatto quindi Silvia Sbrigoli È un profilo Fake Un fake Che però Viene usato Da qualcuno Che sicuramente È vicino A Eliana Michelazzo E Pamela Perricciolo Perché dico questo? Perché c'è un video Sulla pagina Facebook Di Silvia Sbrigoli Che è girato Proprio all'interno Del ristorante Casanova Quello gestito Dalle due agenti Ve lo ricordate Dove si vedono Spesso i VIP Ecco ragazzi In questo video Vediamo Miss Mondo Italia 2002 Che canta Al karaoke Ovvero Pamela Camassa Quindi abbiamo Un'altra Pamela In questa storia Dopo la Pamela Che ha rubato Federico Adeliana Dopo Pamela Prati Dopo Pamela Perricciolo C'è pure Pamela Camassa In pratica Se entri al Casanova E gridi Pamela Si girano In 44 In fila per sé Con il resto di due Giustamente ragazzi A questo punto Dopo che Si è scoperto Che Seba Caltagirone Prima si chiamasse Gio Meloni Dopo che si è scoperto Che sta Silvia Sbrigola Ha rubato l'identità A Flora Pellino Viene spontaneo Andare A spulciare I profili Tutti gli altri profili Facebook Che gravitano Intorno a Mark Caltagirone E purtroppo Ragazzi viene fuori Che siano quasi tutti Profili potenzialmente Fake Ad esempio C'è questo Stefano Codispoti Che stando al suo Url Quando ha creato Il profilo Si chiamava Angel Davis Un nome Che richiama Angela Davis Ragazzi Che è una famosa Attivista afroamericana Degli anni 90 C'è poi Ivan Lazio Che prima Guardando il suo url Si chiamava Resistenza nera Quindi diciamo Sempre qualcosa Che rimanda Alla difesa dei neri No? Come Angela Davis Oddio a meno Che non si riferisca Alle camice nere Quasi dimenticavo Ellen Roma Ragazzi Ellen Roma Un'altra Che interviene Sul profilo Di Mark Galtagirone Che condivide Roba Su Mark Galtagirone A giudicare Dal suo url Un tempo Si chiamava Ellen Coppi Che coincidenza Come il Il marito Di Eliana Michelaccio Simone Coppi Saranno imparentati Insomma Ragazzi Sono tutti Profili fittizi Qua abbiamo Una rete Di account Finti Che interagiscono Tra loro Il dubbio Quindi si intensifica Ma non sarà Che anche Marco Galtagirone Sia un profilo Fake In teoria No ragazzi Perché comunque Ce le abbiamo Delle persone Reali Collegate a lui La prima È proprio Vandaferro Mentre la seconda È Pamela 2 Donna Pamela Perricciolo Perché Pamela 2 Ragazzi Come dicevamo Prima È un'amica Intima Di Mark Cioè lei Gli commenta Praticamente Tutti i post E anche con Questo tono Confidenziale Sapete Tipo Quell'amica Che dimostra L'affetto Facendo l'acida Così Ragazzi Quindi Un rapporto Tutt'altro Che formale Quello Tra Mark E Pamela Cioè si capisce Proprio Che stiano Intimi Che stiano In confidenza Addirittura Sebastian C'è un commento In cui La chiama Zia Pam Quindi Ragazzi È di casa Pamela 2 Inoltre Su Facebook Pamela 2 C'ha pure Questa foto In cui È insieme A un cane Che sarebbe Il cane Di Mark Caltagirone Vandaferro E ancora Ragazzi C'è questa foto In cui Ci sono Insieme Pamela 2 Eliana Michelazzo E Vandaferro Tra l'altro Onor del vero Di foto Ne esistono Tantissimi Cioè tantissime Ne esistono Altre È come se Prima che Arrivasse Pamela Prati La terza Fosse lei Nel trio Il problema è che nel momento in cui D'Agospia inizia a indagare sulla relazione di Vandaferro con Mark Caltagirone La politica calabrese immediatamente scrive una mail di rettifica al direttore di D'Agospia Ovvero Roberto D'Agostino Dicendogli senta un po' Roberto D'Agostino Io a sto Mark Caltagirone di persona non l'ho mai incontrato Ah vi leggo ragazzi questo comunicato scritto da Vandaferro per D'Agospia Gentile direttore in relazione a quanto pubblicato da D'Agospia rispetto alle notizie sul matrimonio di Pamela Prati Tengo a precisare che non sono mai stata sposata con alcuno Come si può facilmente verificare è che non ho mai conosciuto personalmente Marco Caltagirone Al quale mi legano esclusivamente alcuni scambi di battute scherzose su Facebook risalenti ad alcuni anni fa Lo so ragazzi giustamente vi starete chiedendo tutti ma la foto col bambino dove la metti la foto con Sebastian? Per ora da parte Vandaferro non è l'unica politica a scrivere ad Agospia Infatti ragazzi proprio a questo punto interviene anche l'onorevole Alessia Bausone del PD Sempre parliamo di partiti calabresi quindi il partito democratico calabrese Per dire che lei stessa in passato è stata contattata su Facebook da un profilo di nome Marco Caltagirone Che continuava a screditare con lei Vandaferro Cioè lui diceva di essere il fidanzato di Vandaferro E scriveva ad Alessia Bausone è una madre affidataria di merda Una madre affidataria anaffettiva Non si comporta bene con Sebastian perché pensa soltanto alla carriera politica Pensa solo al lavoro E il che ragazzi fa diciamo puzzare il naso a Bausone All'onorevole Bausone Perché guarda caso questo interazio cioè questo Marco Caltagirone Veniva a screditarle l'avversaria politica proprio poco prima delle elezioni politiche In cui Vandaferro era candidata Quindi ragazzi secondo Alessia Bausone Marco Caltagirone Avrebbe avvicinato Vandaferro al solo scopo di annientarla politicamente Cioè il piano sarebbe stato il seguente Fare credere a tutti che avessero un figlio in comune Lui e Vandaferro In questo modo Marco Caltagirone sarebbe stato visto come uno che Vandaferro la conosceva bene E per cui gli avrebbero creduto tutti nel momento in cui avesse detto Lei fa schifo cioè lei è una madre anaffettiva E precisiamo che il fatto di essere una madre anaffettiva Che pensa solo al lavoro per una donna di Fratelli d'Italia È una cosa devastante Ora ragazzi io dubito fortemente che il movente di tutto questo teatrino possa essere politico Secondo me la politica non c'entra Secondo me è molto più probabile stando alle cose che scopriremo mano a mano Che Vandaferro non abbia consentito a fare qualcosa che Marco le aveva chiesto di fare E così Marco Caltagirone si è vendicato Contattando l'onorevole Bausone cercando di infamarla Una cosa agghiacciante ragazzi è che nel momento in cui la relazione tra Vandaferro e Marco Caltagirone È definitivamente naufragata Perché io penso che lei tipo ci abbia voluto dare un taglio Tutta la rete di account fake che abbiamo Tutta la rete di account fake che abbiamo sgamato poco fa Ha messo in atto una macchina del fango contro questa donna ragazzi Contro questa Vandaferro Praticamente nello stesso periodo siamo intorno a gennaio Quindi periodo a quanto pare di campagna elettorale Gennaio 2018 in Calabria Silvia Sbrigoli cioè la tizia che ha rubato l'identità a Flora Pellino Scrive Come hai fatto ad amare una che gioca con tuo figlio ancora non lo capisco Palesemente il tu al quale si riferisce Silvia Sbrigoli è Marco Caltagirone Perché comunque Cioè di fatto questo account esiste solamente per commentare i post di Marco Caltagirone Quindi cioè o comunque per supportare l'esistenza di Marco Caltagirone Quindi notare il fatto che Silvia Sbrigoli colpisca Vandaferro nel suo punto più debole Cioè il fatto che c'è l'accusa di non essere una buona madre Non essere una madre presente Perché questo è il suo punto più debole Perché per Fratelli d'Italia cioè i valori della famiglia tradizionale sono un vessillo Quindi è la cosa più incriminante Probabilmente è anche una cosa a cui magari questa Vandaferro stessa Proprio perché milita in Fratelli d'Italia Tiene molto E infatti lo stesso giorno scrive Silvia Sbrigoli su Facebook Votate chiunque ma non la Meloni e la sua lista di finte mamme Ecco quindi qua a parte il tentativo di colpire lei personalmente C'è proprio un tentativo di sabotarla a livello lavorativo Perché quello che vuole farle capire sotto sotto questa Silvia Sbrigoli O chiunque ci sia dietro questa Silvia Sbrigoli È che le sue decisioni prese nella vita privata Influiranno sulla sua carriera Dal momento che il partito risentirà delle sue decisioni personali Mi viene da pensare che dietro questo Marco Caltagirone ci possa essere un clima di intimidazioni e minacce Anche perché qualche giorno prima Igor Lazio Quindi un altro degli account fake che gravitano intorno a Marco Caltagirone Scriveva su Facebook Sarò la tua ombra Ti farò rimpiangere tante cose signora Cioè guarda caso tutti gli amici di Marco Caltagirone Nello stesso periodo Cominciano a lanciare frecciatine Su Facebook Contro una donna Facendo riferimenti politici Perché non finisce qui Infatti lo stesso Marco Caltagirone A marzo Quindi mesi dopo Tagga Silvia Sbrigoli E scrive su Facebook Mea culpa per non averti dato ascolto 16 mesi fa E lei gli commenta Meglio tardi che mai E poi c'è Stefano Codispoti Ve lo ricordate quello che nell'urla era Angel Davis Stefano Codispoti Sempre a marzo 2018 Scrive Su Facebook sempre Il social è quello dei boomer Breve storia di una signora Che fa la santa Ci fa votare Ci scrive Ci offre aiuto Poi diventa onorevole E ci blocca Ma Dio è grande A parte che questa storia Mi ricorda molto Una particolare rete Di cui abbiamo parlato Su questi schermi Ma a parte ciò E attestiamo a questo punto A marzo 2018 Questo significa che tra pochissimi giorni Pamela Prati conoscerà Mark Caltagirone E si innamorerà di lui Guarda caso Perché se vi ricordate Lei ha detto che si sono conosciuti ad aprile Che si sono innamorati ad aprile Aprile 2018 Guarda caso pochi giorni dopo Che Starrete ha smesso Di intimidire Vandaferro E prendersela con lei L'onorevole Alessia Bausone Conclude l'email A Dago Spia Facendo una dichiarazione Che fa scoppiare Un terremoto Fa un casino Sentite Successivamente Interagendo per il tramite Di conoscenze comuni Ho scoperto la verità Sull'inesistenza di Mark O. Marco Caltagirone Personaggio creato a fini pubblicitari Da Icos Management E da Eliana Michelazzo Che a sua volta Si inventò anni fa Di essere la fidanzata Di tale Simone Coppi A suo dire Parente Del noto avvocato E professore Franco Coppi Un meccanismo rodato Quello di utilizzare cognomi noti Per creare relazioni pubbliche Sulle quali far marciare il gossip C'è molto da dire In questa vicenda disdicevole Ma vorrei solidarizzare Con l'onorevole Ferro Di fronte a questi mezzucci Di discredito politico Vergognosi Un cordiale saluto Alessia Bausone Ora ragazzi L'onorevole Bausone Più avanti Verrà intervistata E aggiungerà Altra carne al fuoco Dicendo che Marco Caltagirone Le raccontasse Che Sebastian Facesse la chemio A causa di un tumore Alle corde vocali E per provare Questa cosa Mostra anche Gli screenshot Della chat Che sono Questi qui Scrive Marco Caltagirone Ad Alessia Bausone Mio figlio Sta facendo la radio Adesso Quella di ieri Non l'ha presa benissimo Ed è ricoverato Almeno siamo a Miami Adesso Dove abbiamo casa Quindi si sente Più tranquillo Risponde L'onorevole Alessia Bausone Mamma mia Mi spiace assai Da tanto è malato Replica Mark Caltagirone No Sta facendo la radio Da tre volte Solo che avendolo Alle corde vocali E insomma Questi sono I unici screenshot Ok Allora Ricapitoliamo Ragazzi Secondo Alessia Bausone Dietro Mark Caltagirone Ci sarebbe La Icos Management Ovvero Niente meno Che Le agenti Di Pamela Prati Eliana Michelazzo E Pamela 2 Non solo Il marito Di Eliana Michelazzo Con il quale Lei ormai A questo punto Della storia È sposata Da dieci anni Secondo L'onorevole Bausone Non esiste Cioè non sarebbe Mai esistito E con ciò Alessia Bausone Non è che apre Il vaso di Pandora Ragazzi Lo frantuma Il 10 aprile Del 2019 Barbara D'Urso E nera Ragazzi E convoca Le agenti Pamela Perricciolo Ed Eliana Michelazzo Nella sua trasmissione Per chiedere Spiegazioni Ma le due Tranquillissime Ridono Assicurano Che Marco Caltagirone Esista Che sia una polemica Montata sul nulla Perché tanto Tra qualche giorno La sua faccia La vedremo tutti La vedremo Quando lui e Pamela Prati Si sposeranno Perché Verissimo C'ha l'esclusiva E il matrimonio Verrà filmato E i due Verranno intervistati Tant'è vero Che Pamela Prati Ragazzi A sto giro Non si è presentata Al live Non è ladurso Perché Perché a detta sua Deve rispettare L'esclusiva Firmata con Verissimo In tutto ciò Marco Caltagirone Si indigna pure Cioè lui È troppo arrabbiato Per sta cosa Che tutti gli dicano Che non esiste Capito Tanto arrabbiato Che scrive Una lettera A Barbara D'Urso E questa lettera Viene letta In A live Non è la D'Urso Durante la puntata Ovviamente ragazzi Andiamola a leggere Gentilissima Barbara D'arte da qualche sito Ultima cosa Ho avuto da un'altra relazione All'estero 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 da sempre Quindi in realtà Questi Sebastian E Rebecca Vivono all'estero Non vivono in Italia Di conseguenza Se Pamela Prati Convive Con Mark Caltagirone I suoi figli Allora significa Che già loro Convivono all'estero I miei figli Sono all'estero Da sempre Tutelati Soprattutto da una Cattiveria gratuita Che ahimè Esiste sempre più Se volete farci Gli auguri Sappiate che siamo Una bella famiglia E questa spero sia L'ultima volta Che lo si mette in dubbio In caso contrario Rimanete con le vostre convinzioni Perché né io Né Pamela Credo Avremo più voglia Di rispondere Al nulla Distinti saluti E come dice La Prati Per noi Esiste Presente E futuro Ma infatti Presente e futuro Esistono Sei tu che non esisti Io non ho passato Io sono presente e futuro A questo punto Pamela Prati Entra in scena Però siccome Deve rispettare L'esclusiva con Verissimo Non si può presentare In studio Fa la videochiamata A Barbala D'Urso Cosa da dire In sua discolpa Pamela Prati Pamela ragazzi Spiega Che le promesse Di matrimonio Lei e Marco Le abbiano fatte All'estero E per questo motivo Che non risultano Nei registri in Italia Per questo Lei in Italia Risulta nubile Ragazzi Ma che state Dice Cioè Ma veramente Siete proprio tutti Dei malpensanti Inoltre Pamela Ribadisce ancora una volta Che stia andando A vivere all'estero Insieme a Marco Caltagirone Per tutelare La sua famiglia Nonché per tutelare Se stessa Di nuovo Ma da chi Cioè Cosa siete Anticamorristi A chi avete Pestato i piedi Ragazzi Non facciamo scherzi Uscite i nomi Degli stronti Che vogliono Farci fuori Pamela Prati Vabbè Pamela Prati Si mette a piangere Alla fine Conclude la videochiamata Rivolgendosi Alla telecamera E Dicendo Amore Grazie di esistere Amore Grazie di esistere Allora A me la frase Grazie di esistere Fa già ridere Quando è dedicata A una persona Che esiste Insomma ragazzi Questa puntata Si conclude Con una Barbara D'urso Incavolata Come una iena Che dice Guardate Signore Voi tre Io mi auguro Che stiate dicendo Tutte e tre La verità E che Mark Caltagirone Esista Perché questo Mark Caltagirone Mi ha inviato Sul mio numero Di cellulare Un video In cui c'è Un bambino Biondo E con gli occhi Azzurri Che dice Ciao Sono Sebastian Ti voglio fare Gli auguri Per questa sera Per il grande Fratello Grazie di tutto Perché la sera In cui ha ricevuto Sto messaggio Barbaro d'urso Iniziava a condurre Il GF VIP 2019 Comunque Questa era una parente Comunque quindi Barbara dice Io mi auguro Che voi tre Non stiate Mettendo un bambino In mezzo a una brutta cosa E loro Sì sì Tranquilla Barbara Marco Caltagirone Esiste Simone Coppi Esiste Babbo Natale Esiste Esistono tutti E voi siete tutti scemi Ora ragazzi Questa cosa scioccante Che dice Barbara D'urso Cioè che Mark Caltagirone Le abbia inviato Un video Ritraente Un bambino Significa una cosa Significa che perlomeno Abbiamo il numero di telefono Di Mark Caltagirone E così I giornalisti Di Fanpage Tentano di chiamarlo Marco ovviamente Ragazzi non risponde E così provano A inviargli Un messaggio Su Whatsapp Ebbene Questa è la chat Tra il giornalista Di Fanpage E Mark Caltagirone Può rispondere Adesso Chiede il giornalista E Marco risponde Le ripeto La farò contattare Dai miei legali Io non parlo più Con nessuno Tranne le esclusive Che abbiamo firmato Distinti saluti Vedo che ha una bimba In foto Pensi anche ai figli Degli altri Insomma ragazzi Marco Caltagirone È abbastanza infastidito Dal fatto che vogliano Parlare di lui E però Dice Al giornalista La farò contattare Dai miei legali Lo fa contattare Dai suoi legali Sì I legali Di Marco Caltagirone Telefonano Il giornalista Di Fanpage Come va C'è questa cosa Come Cosa succede Allora ragazzi Dapprima il giornalista Viene contattato Da una persona Che sostiene Di essere L'avvocata Irene Della Rocca Irene Della Rocca È l'avvocata Di Pamela Prati Che esiste Cioè esiste Veramente Questa tizia Il giornalista La conosce Questa Irene Della Rocca Discute con Fanpage Delle notizie Che vengono Divulgate Su Marco Caltagirone Perché insomma L'avvocata Dice al giornalista Guardi Io Mi devo Tutelare Il cliente E sinceramente Sta ricevendo Troppo fango Mediatico Quindi vediamo Un pochettino Come fare Insomma in qualche modo Ragazzi Questa avvocata Implicitamente Conferma L'esistenza Di Marco Caltagirone Perché comunque Ne parla Come se fosse Un suo cliente Come se stesse Difendendo Il suo interesse E in seguito Il giornalista Viene chiamato Al telefono Anche da Un'altra avvocata Questa volta L'avvocata Proprio personale Di Marco Caltagirone Perché appunto Irene Della Rocca Appartiene Diciamo A Pamela Prati L'avvocata Di Marco Caltagirone Invece È l'avvocata Donata Questa avvocata Gli dice Che vorrebbe Fargli avere Degli atti Legali Per Gli articoli Però Non può Insomma Si crea Un giro Di telefonate Assurdo Che Tuttavia Non basta A disorientare Il giornalista Di fanpage Perché lui È un furbone E ha la prontezza Di chiamare Lui stesso L'avvocata Irene Della Rocca Di cui lui Ha il numero E questa avvocata Ragazzi Dice Guardi Signor giornalista Di fanpage Che io Non l'ho mai chiamata La persona Con cui ha parlato E che ha detto Di essere Irene Della Rocca Non so chi fosse Ma di sicuro Non ero io Ma ci picchia E chi era ragazzi Pamela 2 Cioè Non ci vuole Chissà quale indagine Poliziesca Per arrivarci Perché praticamente Il numero Di telefono Dal quale Il giornalista Ha ricevuto La chiamata È stato Quello di Pamela Perricciolo Ma se questo Non bastasse Perché ovviamente Cioè Magari Pamela Perricciolo Può aver dato Il suo telefono A Marco Caltagirone Per fare Di telefonate Quindi ovviamente Servono altre prove Perché questa cosa Del numero Da sola Non prova nulla Ebbene Il nostro giornalista Furbone Ha avuto anche La prontezza Di registrare La chiamata E così Piglia la registrazione Dell'avvocata Donata E chiama Niente meno Che un perito Della procura Di Napoli Tale Lucio Guzzo Chiedendogli Di eseguire Addirittura Una perizia Della voce Dell'avvocata Donato Questa presunta Avvocata Di Marco Caltagirone C'è un perito Ragazzi Per analizzare La voce Abbiamo scomodato Il perito Per Marco Caltagirone Non potete capire Quanto riso Mentre questo perito Spiegava In termini Scientifici Perché la voce Dell'avvocata Donata Fosse proprio Quella di Donna Pamela Perricciolo Soggetto A un Violetto tipico Della provincia Del Catanzarese Che è sempre presente Una frizione Del gruppo Consonantico Che rende Questo LTR Africato Comunque questo perito Conclude La perizia Dicendo che L'avvocata Di Marco Caltagirone Sia Indubbiamente In realtà Pamela 2 E qui le cose Si fanno sempre Più ambigue Ragazzi Passa qualche Settimana E finalmente Abemus Data Finalmente Abbiamo una Data Del matrimonio Ebbene Marco Caltagirone E Pamela Prati Si sposeranno In chiesa Non si sa Quale chiesa Vabbè Comunque Si sposeranno L'8 maggio 2019 Tra l'altro Ragazzi Non è che si scopre Perché Pamela Prati Lo dice No Si scopre Perché Malgioio Ha ricevuto La partecipazione E come primo Pensiero Se ne è andato Al Maurizio Costanzo Show A dire Raga Non potete Capire Pamela Prati E Marco Caltagirone Si sposano L'8 maggio I giorni Passano La gente Continua Ancora A sostenere Sull'internet Che Marco Caltagirone Non esista Si mema Fortissimo Su questa Cosa Di Marco Caltagirone E finalmente Appunto Una settimana Prima del matrimonio Marco Caltagirone Si decide A degnarci Di un segnale Della propria Esistenza Viene infatti Intervistato Telefonicamente Da Barbara D'Urso E così Ragazzi Sentiamo Finalmente La voce Di Marco Caltagirone La chiamata Si sente Malissimo Ci sono Interferenze Lui parla Piano Non si capisce Quello che dice Risponde A monosillabi Insomma Ve la faccio Breve Secondo Un perito Tecnico Perché di nuovo Ci fanno La perizia Tecnica Alla voce Chiunque Abbia parlato Al telefono Con Barbara D'Urso Avrebbe interposto Un oggetto Forse un fazzoletto Tra la bocca E il microfono Per camuffare La voce Vi faccio sentire Qualche strato Di questa telefonata Anche se praticamente Considerate che dovrò Modificare una voce Modificata Per la questione Del copyright Però insomma Meglio di niente Comunque durante questa telefonata Così bislacca Che proprio si capisce Troppo Che ci sia qualcuno Che sta camuffando La voce Barbara D'Urso Con grande fatica Riesce a spillare A Marco Caltagirone Delle risposte Per esempio Gli chiede Tu è Pamela Quindi vi sposerete L'otto maggio Oppure no La risposta È a dir poco strana Se solo avesse detto Sì ma niente di serio Vi giuro Me lo sposavo io Marco Caltagirone Ma ragazzi A me sto Marco Non sembra per niente Convinto Di volersi sposare Con Pamela Prati Però comunque Poco stretto Conferma Che l'otto maggio Si sposerà E però ragazzi Dice Io fino ad allora Non sono autorizzato Da Verissimo A fare circolare Neanche una mia foto Perché Verissimo Non vuole Quindi mettetevi il cuore In pace Perché non dipende Da me Verissimo Smentisce questa cosa Ragazzi Non è vera È l'ennesima Fandò Cioè è vero Che Verissimo Abbia l'esclusiva E quindi intervisterà Marco E Pamela Una volta avvenute Le nozze Però Non c'è nessuna Clausola Nel contratto Che Pamela Prati Ha firmato Perché attenzione Marco Caltagirone Non ha firmato Ha firmato solo Pamela Prati L'esclusiva Con Verissimo In questo contratto Non c'è E non esiste Nessuna clausola Che dice Che loro Non possano Divulgare foto Di Marco Caltagirone E manco la cosa Che Pamela Prati Non possa andare Ospite Da Barbara D'Urso Che non possa Comparire In altre trasmissioni Cioè si stanno Si stanno inventando Tutto ragazzi Sono palesemente Ragazzi Tutte scuse Per prendere Tempo E giustamente Il pubblico Da casa Ancora di più Si incavola Perché Sembra che Pamela Prati Stia prendendo un po' Per il culo Tutti quanti Cioè Soprattutto che stia Prendendo per scemi Tutti quanti Comunque I giorni che precedono Le nozze Sono caratterizzati Dal dubbio E dal mistero Potrebbero Tacere tutti Aspettare il grande giorno Invece in tv Non si parla D'altro che Del giallo Di Marco Caltagirone Sul web Ancora I meme Su Marco Caltagirone Sono virali Anzi sono sempre Più virali Mentre Pamela Prati Continua Imperterrita A taggare Il suo Marco Nelle stories Condivide In questi giorni La foto Della partecipazione Scrive Ci siamo quasi Alla faccia Delle male lingue Tagga Eliana Tagga Pamela 2 Tagga la wedding planner Che si stava facendo I fatti suoi E viene tirata in mezzo A sto bordello Addirittura ragazzi Pamela Prati Viene intervistata Non è l'arena Dove pur di dare Una prova Dell'esistenza Del suo sposo Fa sentire Una nota vocale Che Marco Caltagirone Le avrebbe inviato Su Whatsapp Ovvero Ragazzi Questa qui Questi Mi riempiono il cuore E volevo Che lo sapesse Giunge la notte Prima del matrimonio Il 7 maggio Pamela Prati Condivide nelle stories Il video di un uomo Che sta guidando La macchina Un uomo Che non viene inquadrato Ma di cui si vedono Il braccio e il mento Perché ormai c'è Ormai ci siamo Giustamente Ci spoilerà pezzi Del corpo Perché ormai È quasi arrivato Il grande giorno In cui lo vedremo Tutti in faccia No? E finalmente ragazzi Giunge questo fatidico Giorno del matrimonio Finalmente Giunge L'8 Maggio 2019 Pamela 2 Annuncia Che le nozze Sono rimandate A data da destinarsi Perché purtroppo Pamela Prati Sta male Pensa io come sto A questo punto ragazzi Facciamo una veloce pausa Per metabolizzare Tutto quanto Anche perché io Mi sto sentendo male Veramente In questo capitolo Abbiamo aperto Un sacco di questioni Che giustamente Ci sono rimaste aperte Come mai Vandaferro C'aveva la foto Con Sebastian Caltagirone Chi c'è dietro Tutti i profili fake Mark Caltagirone Esiste Simone Coppi Esiste E se Mark Caltagirone Non esiste Chi c'è dietro Mark Caltagirone E perché Qual è il movente Sarà Pamela Prati Sarà Eliana Sarà Pamela 2 Sarà Pamela 3 Sarà Pamela 4 Sarà Barbara D'Urso Vediamo quanti di voi Hanno già capito Ragazzi E vediamo anche Quanti unicorni Quanti fantasmini E quante creature Fantastiche Avete lanciato Nei commenti Così misuriamo Il livello di indignazione Generale Detto ciò Io vi ringrazio Tantissimo Per essere arrivati Fino a qui Vi ricordo Che se volete Sostenere il canale Potete farlo Offrendomi un caffè Virtuale Tramite il link Che vi lascio Giù Nell'info box Ci vediamo Prestissimo Con il secondo Capitolo Della Mark Caltagirone Saga E ragazzi Vi mando un bacio A voi la linea Saga 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 Grazie a tutti.